Come mai? Non so boh, mentre dentro il gettone il telefono non va, ma come mai non va il gettone dentro il telefono? Ma se c'è un cellulare sto qua, cretino, dai che sembri d'onda, dai. Buonasera, buonasera a tutti quanti, a quei da drivo e a quei davanti. Buonasera al Busso A, buonasera a Fugassa qui fighi, buonasera al tiramisù, buonasera a Crostata de Sarese. Buonasera a Torta Fregolotta, buonasera alla Zuppa Inglese, buonasera a tutti i dolci, dedicati a tutti quanti i morosetti, cariche, dolci, così, succarosi. So che a guardarli te viene il diabete, va. Buonasera a tutti, è grande successo del nostro Festival de Fregue, San Fregue, San Fregue, tutti quanti ne scrive. Tutti quanti vuoi votare a Canzon e se è giusto, votè e continui a votare a Canzon che sta a presentare negli scorsi giorni e questa sera sarà l'ultima Canzon in gara. E poi domani che sarà la gran finale. Ma questa sera, diciamo, prima delle notizie, di via dei... Leseret, alcune delle tantissime lettere che ne si arriva e che ga indovinà i proverbi. Dunque, indovina il proverbio rubinato Alfonso de Campodassio che ga indovinà e a Cagna. Allora, mentre Maria Cecotto de Porto Gruaro ga indovinà e a Scoresa, infatti la gassentia. Come pure il signor Bocci, Bocci Alessandro, da Moyan Treviso che ga indovinà a Scoresa. Un'altra Scoresa la ga indovinà Paolo Pandolfo de Campo Nogara. Ecco, per non smentirsi, ancora un'altra Scoresa ga indovinà invece è la nostra Andrea Manara. Qua gaviamo anche Matteo che non specifica il cognome e dice, secondo mi, esè Scoresa, al plurale. E per concludere, Sambo Mauricio de Venezia ga indovinà anche io e a Scoresa. Tutti quanti andrà a nostra maglietta. A Scoresa, no, cioè, una bella maglietta. Io non sei bene. a difendere tutti quanti i tipi di piante. Eh sì, soprattutto un tipo particolare di pianta. Esè qui di a canna pa. Insomma, la baruffa è tra chi che è più verde. Poi al momento intanto, esè tutti quanti verdi. Ma le rabbia. Beh, questa notizia è un'altra notizia che ne arriva dall'estero, dal Brasile, però riguarda il Veneto. Esatto. Audience, record in Brasile per la telemonella sugli emigranti italiani. Bea questa, Bea. Oramai, sapevamo tutti quanti che le telenoveli fa ascolto. Ma questa qua in Brasile, se drillo battere tutti quanti i record. E il titolo si è Terra Nostra, Terra Nostra. E racconta la storia dei nostri emigranti che si è partì con una baesia del carton di Galco Spago e quattro scrasse dentro. Come Ola Soiedo. Esatto. Che aizia era andata in quei paesi lontani alla caccia in cerca di fortuna. Esatto. Ah, che be' che esiste telemonelle. Anche me mogliere, anche me mogliere varrà matta per telemonelle venete. Non se ne perde una. E quale sarebbe telemonelle venete? Tutte le ore, davanti a TV, no, che cosa? Uccelli di Rovolone. Uccelli di Rovolone. Quando si ara. Quando si ara? Ma dove vedi? Su Telemais. Marte del Mais. Grande successo delle telemonelle e grande successo anche del nostro San Fregue. Ci amiamo la nostra cara presidente di giuria. Ecco, vieni qua, vieni qua, sentate qua. Ma non è che ci state prendendo l'abitudine? No, è l'ultima canzone in gara. La dedichiamo alla nostra presidente della ruggiria. Grazie. A me ansana se un... Non ho trovato cetriolo. Eh, perché i fiori qua a San Fregue non va tanto, va meglio i ortaggi. Eh, vedi. Andiamo avanti con l'ultima canzone in gara. Ecco qua. In tutto il mondo, no che sei, uno più spiegate mi. No, no, no che non ti adoro. No, no, no che non ti adoro. No, no, no che non ti adoro. E mi no che non ti adoro. No, no, no che non ti adoro. Se colleghiamo quindi con la nostra giuria competente, dove che sei, la nostra Vanessa e anche Ola Soiedo che aiuta. Buonasera a tutti quanti. Buonasera a tutti quanti. Buonasera. Vanessa, no, no che non ti vediamo. Come sei sti ospiti? Ah, beh, beh. E quanti sei? Grazie. Quanti sei? Quanti sei? Buonasera a tutti. Quanti sei? Tanti, tanti, tanti. Scusa signorina, non ora mediatez? Mediatez? No. Non mediatez? Andiamo a votare Vanessa. Allora andiamo con la votazione sulle mani. E no te adoro. Allora, ma no, che no te adoro. Allora, ma no che non te adoro? Ehi, io non so giusti che si da. Tanti, otto, otto, otto. Quanti, 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 quanti? Quanti, 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 quanti. Quanti, 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 quanti. Trentadue voti. Trentadue. E mi no, che no te adoro. Benissimo. Trentadue voti. Grazie Vanessa, grazie anche. Ciao, buonasera. Aola Soiedo. Ragazzi, forza? OLEEEE! Ciao a meno. Ciao a meno. Ma perché? Ma perché non me lo mandi sempre così lontano? Perché Tite, sì, è presidente della giuria, te me mandi sta gente, mi non so. Eh, vabbè, io non compro mica nessuno, sei solo una persona. Bisogna chiedere il voto della Presidente, il voto per E mi no, che non ti adò. So che sei la canzone che ti piace tanto. Ma sì, dai, un bel nove sto giro. Nove, 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 nove. Vedi, è una settimana di sole? Giusto, perfetto. Andiamo con la notizia prima di passare al nostro proverbio. Sì, sì. Da grande farò il calciatore per avere successo con le ragazze. Questa è una notizia che puoi commentare anche Tite, che ti viene se qualcosa. Sento niente Tite? Non mi so niente. Attore, poetico, imprenditore del successo, Pierre, DJ, manager, niente di tutto questo. Sembra che il sogno nel cassetto di tutti quanti i tosi adesso, di oggi, sia fare il calciatore. E questo è il risultato di un sondaggio fatto da Radio 105 Network. Ma è una roba peso, è il motivo per cui i tosi vorrà fare il calciatore. Lo sento perché? Lo sento perché vuoi fare il calciatore? Perché il piatto è sport? Perché il piatto è sport? No, no. Perché il ciapposchè, il grana, scè. No, neanche per niente. Guarda, è il motivo per cui vuoi fare il calciatore, se perché vuoi firmare gli autografi e soprattutto cuccare i bei tosi. Cuccare i bei tosi. Vuoi dire che i tosi ha bisogno dei modèi. Qua è modèi. Modèi, altro che... Per vita. Molto incantato, muchachia. Eh, muchachia. E' la murena, murena. Bua murena, bua murena. Pesce e paia. Quante paia che dicevo gli altri. Tutte pesce. Io sei l'ospite, giusto? Cosa? Guardi, non ve conosci praticamente. No, abbiamo lavorato. Al venetario, frego e fregonario. Vabbè, vi faccio poter. Ah, visto mare. Ma tutto, vien tutto, vien. Muchachio. Vabbè, dai, è lo soldo. Ecco, l'ho fatto. Il mio indovinello. Voglio dirgli l'indovinello. Divi l'indovinello. Fai che dirgli l'indovinello. Eccolo qua. L'indovinello se questo. Vago sul balcone e vedo una bea fetta di melon. Cosa se? Cosa se? Traduzco. Vago sul balcone e vedo una bea fetta di melon. Perché traduci non va bene il mio dialetto benetro? No, perfettamente. Mese un po' più spagnolizzante. Hola, hola, hola. Mi bevete la perlita, la perlita, muchachosa. E lo cico, come amico, la doce. Un'altra cosa. Un'altra cosa. Mucho, 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 mucho gusto. Mucho, mucho gusto. Mucho, mucho, mucho. Devo un appuntamento per tutti quanti anche a Parvoianzi. Questa sera, a Bassano del Graffa. A teatro Astra. Dove Brons & Quartel presenta il spettacolo. Frego. Devo tutti adesso, corretto tutti quanti. Ma prima Devo le previsioni del tempo. Le previsioni del tempo per questa sera ormai si è esperta, dai. Domani piove. Edo. Hola da Bassano. Hola da Bassano. Hola da Bassano. Ti vedi che... Hola. Ti vedi che domani... Domani piove. Domani piove. Edo. 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 Yori fa quello che vuoi. Ciao a tutti. Edo, pervenza. Vabbè. Edo. 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 Roberto andate, andate muovete, muovete